Scientificamente parlando, l'aria è l'escuglio gassoso di azoto, di ossigeno, con piccole quantità di alti gas e costituisce l'atmosfera terrestre. Come l'anima ci tiene insieme, così il soffio e l'aria abbracciano tutto il mondo, sosteneva il filosofo Anassimene. L'aria è ciò che noi respiriamo, essa in quanto soffio vitale è l'elemento fondamentale per la vita dell'uomo e la sua azione consiste nel tenerci insieme, nel farci vivere, è il segno della presenza in noi di un'anima. In musica l'aria è una composizione melodica, sia vocale sia strumentale, che può tanto stare isolata a sé quanto servire da elemento costitutivo del melodramma, dell'oratorio, della cantata, della suite e del concerto strumentale. Grazie all'aria esiste il suono, in essa si diffonde e genera melodie, l'aria trasmette, è leggera, è influente, è pensiero astratto, è movimento, è gioco, l'aria è poesia, canto e musica. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.